Siamo in una piazza storica, siamo in una piazza che si chiama Vittoria, non è un caso, non è un caso. Gli ultimi che hanno parlato in questa piazza meravigliosa sono stato Pertini, che ha dato inizio a una grande rivoluzione, partita da Genova contro il governo Tambroni, se vi ricordate. Se fosse vivo sarebbe qua anche lui a parlare, fantastico. È l'ultima piazza, è l'ultima, grazie, grazie. Là in fondo, venite a me, venite a me. Dunque è l'ultima, è l'ultima, grazie, l'ultima performance che hanno fatto qua, che ha fatto leggermente meno gente, è stato Papa Ratzinger, ha fatto un pochino di meno. Ma come vedete i tempi cambiano, un Papa dà le dimissioni, un Papa, un amministratore delegato tedesco del Vaticano se ne va e al suo posto arriva un prete, un prete.